NG Anacopulos, amministratore unico delle reti del gruppo Media Nord-Est, è un'acquisizione che fa molto rumore questa? Beh, è un consolidamento del settore dell'emittenza locale a livello nazionale. Abbiamo acquisito il 21,71% delle azioni del gruppo Media Apason, che vuol dire le prime televisioni del Nord-Ovest, fra cui Tele Lombardia e Antenna 3, che hanno un'assoluta leadership in Lombardia e in Piemonte, Top Calcio 24, Milanao, Videogruppo. Quindi, sostanzialmente, questa acquisizione che è stata fatta di concerto comunque con la dirigenza del gruppo Media Apason, segna una nuova era delle televisioni locali, con un'ambizione di costruire una sinergia che conti a livello nazionale. E come si articola questa sinergia? Beh, tenete presente che sono dieci televisioni da Torino a Trieste che coprono con un'assoluta leadership le aree Nilsen 1 e Nilsen 2. In un settore, quello delle televisioni locali, che ricordiamolo, è cresciuto rispetto agli altri settori, nonostante l'entrata del digitale, quindi nuovi canali digitali, nonostante gli OTT, cioè i famosi Netflix, Amazon. Quindi, l'emittenza regionale di qualità, quella legata al territorio e all'informazione, secondo noi ha futuro. E questa operazione è volta a consolidare una strategia con una sinergia estremamente importante, creando un campione che possa far sentire la sua voce anche a livello nazionale. Ecco, lei ha precisato locale, ma sembra quasi un progetto nazionale. Sì, ma che parte dai territori, cioè al contrario, non è come le reti nazionali che partono dal centro per arrivare ai territori. Noi portiamo l'informazione dei territori con delle televisioni dedicate ai territori, ovviamente con una sinergia talmente grande che si fa sentire anche a livello nazionale. Quanto orgoglioso la rende tutto ciò? Ma non è che renda orgoglioso me, renda orgoglioso chiunque lavori per il nostro gruppo, chiunque lavori per Mediapason, quando si costruiscono cose belle, si è sempre contenti di ciò che si fa. Trova un'altra Antenna 3, mentre la nostra Antenna 3 è la prima televisione locale d'Italia. Sì, beh, lei tenga conto che Antenna 3, come la nostra Antenna 3, diciamo, ha 40 anni, anche l'Antenna 3 Lombardia ha 40 anni. Tele Lombardia sta compiendo 50 anni, cioè stiamo parlando di televisioni assolutamente storiche che hanno segnato un pezzo della storia del nostro paese.